Non c'è la mattina, Margherita? Sto scucciando. Hai ragione, Margherita, hai ragione. Sant'attività, Margherita, che stanotte si vede e ferma una nuova? Eh sì, se sclerotica è spiuta! Non voglio! E poi sto venendo, vuoi sapere chi è lui in questa casa? Non senza rispetto, senza contegno per una moglie legittima. Non vado con Marissa a una televisione fino a tre la notte sto guardando sfogliarello con l'occhio così la farei. Almeno fosse sicuro se le ha. Almeno mi dicesse, Margherita, a me mi piace per me. Ma c'è su quale un problema? Una moglie conteniosa si alza, si aggicina, pooh! Ho sputo pace!